Musica Sabato 15 ottobre 2022, buongiorno, ben ritrovati dalla redazione di Tele Regione Molise. In apertura ci spostiamo nel comune Pentro perché sono in arrivo 25 nuovi dipendenti, tra cui il nuovo comandante della Municipale, tre vigili responsabili dell'area tecnica. L'ha annunciato con soddisfazione il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, obiettivo su cui abbiamo lavorato duramente. Tra la fine del 2022 ed il 2024 al comune di Isernia saranno assunti 14 dipendenti a tempo indeterminato, tra cui il dirigente dell'area tecnica, il comandante della Polizia Municipale e tre vigili urbani, a cui si aggiungeranno altri 11 dipendenti a tempo determinato, con la possibilità di stabilizzarne 4 successivamente. La Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali ha dato parere favorevole al nuovo piano triennale dei fabbisogni di personale per Palazzo San Francesco. Questo consentirà a breve di procedere con nuove assunzioni e di riorganizzare la macchina amministrativa, da tempo ormai in sofferenza per carenza di personale. Già dal primo momento dell'insediamento dell'attuale amministrazione, ha dichiarato il sindaco Piero Castrataro, mi sono reso conto delle gravi carenze di organico, con inevitabili rallentamenti nei procedimenti e con difficoltà nell'erogazione dei servizi al cittadino. Nei prossimi due anni, ha aggiunto, saranno attive ben 25 nuove unità lavorative scelte in ragione di quelli che sono i maggiori fabbisogni delle attuali strutture ed anche in base alle necessità legate agli interventi da realizzare con i finanziamenti delle PNRR. Colgo l'occasione per ringraziare la Giunta e il Consiglio Comunale che hanno lavorato per l'approvazione di un bilancio che consentirà le nuove assunzioni. Un particolare apprezzamento, ha concluso Castrataro, lo rivolgo ai vertici amministrativi e ai competenti uffici comunali che sono stati di valido supporto nell'orientare le scelte utili al raggiungimento di questo rilevante obiettivo. E poi il coronavirus con i dati dell'ultimo bollettino diramato dall'azienda regionale. Ci sono tre nuovi ricoveri in malattie infettive, un dimesso, 10 idegenti attualmente al nosocomio di Campobasso, 143 nuovi contagi rispettivi a 7 al tampone molecolare, 136 invece all'antigenico, su 539 esami processati con tasso di positività pari al 26,5%. 227 invece i guariti, quindi il numero degli attualmente positivi in Molise è di 4.265. E iniziamo la nostra rassegna stampa come di consueto partendo dal regionale, primo piano Molise. Nel centro pagina, caso di legionella a Campobasso, sessantenne in rianimazione e grave. L'uomo è arrivato al Cardarelli per le conseguenze di un incidente stradale. Dagli esami disposti dai sanitari, la scoperta dell'infezione. Il quadro clinico è peggiorato in poche ore. Il Dipartimento di Prevenzione ASREM ha attivato le procedure per risalire alla fonte del contagio. Proprio sul tema andiamo all'interno di primo piano Molise. Legionella, sessantenne grave in intensiva indagine avviata da parte dell'ASREM. Era arrivato in ospedale dopo un incidente stradale. All'uomo è stato diagnosticato il contagio al via le procedure per risalire alla fonte. Leggiamo anche una stralcio dell'articolo. È ricoverato in gravi condizioni nella rianimazione del Cardarelli. Il sessantenne di Campobasso è stato diagnosticato qualche giorno fa il contagio da legionella. Trasportato dal 118 in pronto soccorso dopo un incidente stradale. I sanitari del reparto di emergenza si sono subito accorti che l'uomo aveva la polmonite e ha disposto il ricovero in medicina. Poi anche le altre notizie con il Covid. I dati del monitoraggio settimanale. RTI a 0,51. Incidenza pari a 323. Tre ricoveri. Un dimesso. E 143 casi. In Molise 4.265. Gli attualmente positivi. Poi carenza di personale medico. Anestesisti ancora. Un avviso a vuoto. Ennesima selezione per 23 medici. Poi piano operativo. Alvia la consultazione. L'email per inviare le osservazioni. Torniamo in prima pagina. Sempre su primo piano Molise per dare uno sguardo anche alle altre notizie. Con dentro la notizia Campobasso. Caricaturista eccellente e raffinato. Il Molise piange la scomparsa di Piero Romagnoli. Poi Isernia con le braghe calate si masturba in auto davanti ad una giovane donna preso dai carabinieri. Poi nel centro pagina. Piano operativo. Il PD chiama a raccolta i sindaci. Gravina. Guidi la mobilitazione. Appello ai parlamentari molisani. Deroga al Balduzze in modifica del piano del programma 2022-2024. Poi buone notizie dal municipio di Isernia. L'abbiamo visto anche in apertura della nostra rassegna stampa. Arriva l'Ok da Roma. Presto i concorsi per 25 assunzioni. 14 a tempo indeterminato. E poi anche Termoli. Cimitero la guerra a sondi carte bollate tra comune e ditte. Finisce al Tar. Nel taglio laterale invece il punto, la scuola dell'esempio, quella del prof di Risio, a firma di Vittorio Sanese. Nel taglio alto invece le notizie sullo sport. Pomeriggio da Big Match a Campobasso. Si gioca a Campobasso 1919 di Isernia. Il confronto per il primato. Poi Futsal in A2. Il Cus Molise ospite del Cesena in B Sporting invece in Campania. Poi la Pallavolo, Spike Devils ed Europea 92. Vogliono vivere un sabato di forte impatto. Dal regionale primo piano Molise ci spostiamo sul nazionale partendo dal Corriere della Sera. Nel taglio alto la politica. La nuova legislatura e leghista Fontana, presidente della Camera. Le opposizioni all'attacco su diritti e rapporti con Mosca. Meloni non sono ricattabile. Dura replica Berlusconi che in un appunto in aula l'ha definita prepotente ed arrogante. Sempre sul tema, infatti, il primo piano di Corriere della Sera, l'ira del reader e le vie possibili. Poi ancora nel centro pagina anche la cronaca a Londra. Il lancio della zuppa al pomodoro, il raid ecologista contro i girasori di Van Gogh. Poi ancora Brescia, Bidello umiliato dalla preside. La scuola in rivolta. Dal Corriere della Sera diamo uno sguardo adesso anche alla Repubblica. Sempre la politica nel centro pagina. Meloni Berlusconi, la resa dei conti. Scontro nella maggioranza. Il leader di Forza Italia definisce l'alleata supponente, prepotente, arrogante e offensiva. Lei lo gela. Si è dimenticato un aggettivo non ricattabile. La presidente di Fratelli d'Italia si vendica sulla formazione del governo. Niente giustizia agli azzurri. Tajani prova a mediare. Si lavora a un incontro fra i due. Camera, eletto il leghista Filorosso Fontana. L'opposizione insorge il PD. Uno sfregio. Poi nel taglio laterale in Mappamondi. Putin e la guerra è spiacevole. Ma non solo pentito. E ora Kiev chiede missili all'Italia. Dalla Repubblica diamo uno sguardo adesso anche alla prima pagina del messaggero. Sempre la politica con l'elezione alla Camera. Fontana è il nuovo presidente eletto il leghista che esalta il Papa e le diversità. La Meloni ora spediti con il governo. Nervi tesi tra Forza Italia e Fratelli d'Italia. Berlusconi attacca Giorgia che replica. Io non sono ricattabile. Poi le altre notizie. Banch'Italia incassati 42 miliardi in più. Fisco, boom di entrate in otto mesi, più 15%. Ma FMI avverte, c'è il rischio di debito. Poi, caro bollette, martedì la nuova proposta. Gas, Lab Turco frena. Subito il prezzo. Unione Europea, antispeculazione. Primo stop al TTF. Europa immobile. La crisi energetica è al via possibile dei singoli paesi. Poi, le altre notizie. Nel taglio laterale, picchiato perché gay, nel bar alla moda. Ci sono tre arresti. Terracina salvato da un avventore coraggioso. Le telecamere incastrano una gang omofoba. Poi, nel centropagine, scrive la Zelenska, scrive alle tante donne soldato. Grazie a tutti voi. Olga e le altre al fronte. 60 mila. Le ucraine. Dal messaggero, diamo uno sguardo anche alla prima pagina del tempo. Sempre la politica. Strappo nel centro-destra. Resa dei conti tra Meloni e il Cavaliere. Scoppia il caso degli appunti di Berlusconi su Giorgia. Arrogante e prepotente. La fondo della leader di Fratelli d'Italia ha dimenticato una cosa. Non sono ricattabile. Poi Salvini, la mediazione al fedelissimo Fontana. La presidenza della Camera. Nel centropagine, invece, Fico dimentica il populismo grillino. Tiene lo staff e occupa l'ufficio di Casini. Nel taglio laterale, invece, sinistra impazzita. Tra striscioni, insulti e crisi di nervi nel Partito Democratico. Terzo polo. In manovra, Calenda e Renzi. Rinsaldano l'asse del centro. Nel taglio basso, invece, sempre però nel centropagina. A San Giovanni solo San Pietrini. Tra le 400 opere del Giubileo. L'addio ai prati davanti alla Basilica. Dal tempo ci spostiamo sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, sempre dedicato alla politica, al centropagina. Rissa continua. Bellosconi insulta Meloni. E che lo liquida? Non sono ricattabile. Che fai? Lo cacci? Forza Italia vuole la giustizia per casellati. Ma i fili temono per le aziende. Salvini esulta. Fontana alla Camera. E cinque ministri. Poi le altre notizie. Guerra. Putin gioca al bastone alla carota. Boom di droni bomba. E poi le altre notizie. Ancora nel taglio alto parla Emanuele Trevi. Il PD al Grand Zero. Regnano i social manager. Anche uno sguardo alle altre notizie. con la Gran Bretagna. Ok. Tras licenzia il ministro liberista. E il labor avanza. Dal Fatto Quotidiano. Uno sguardo adesso anche al quotidiano della verità. Nel taglio alto. Clamoroso scontro. Il governo non è nato. Ma rischia guerra atomica tra Meloni e il Cavaliere. La sbandata del Senato lascia strascichi devastanti nel centro-destra. Forza Italia cerca di ricomporsi. Ma spunto un altro biglietto di Berlusconi contro la Dider di Fratelli d'Italia. Arrogante. Impossibile. Un accordo. L'è inserata. Va giù durissima. Silvio ha dimenticato una cosa. Non sono ricattabile. Vacilla la coalizione. E si rincorrono ipotesi di nuove maggioranze inedite. Ad un passo dall'incarico. Poi nel centro-pagina Fontana. Alla camera. Sinistra i matti. Italia in pericolo. E fanno lo sciopero del Brindisi. Sempre nel centro-pagina. La procura europea ora indaga sui vaccini. Inchiesta sul più grande affare economico-sanitario del pianeta. Vedremo gli sms della von der Leyen. Incredibile. La traduzione italiana delle risposte di Pfizer in audizione buca. La risposta più importante. Poi un riferimento anche alla guerra. Putin da Erdogan. Non mi pento. Musk mette il freno ai satelliti. È il segno del fine della guerra? Così la verità. Andiamo a uno sguardo adesso anche alla prima pagina del manifesto. La camerata. Il titolo nel centro-pagine. Leghista Lorenzo Fontana. Eletto nuovo presidente della Camera. Integralista. Cattolico. Omofobo. Antiabortista. E fan di Putin. Il PD. Sfreggio all'Italia. La destra trova i voti in aula. Ma è scontro aperto. Berlusconi. Meloni prepotente. La replica. Non sono ricattabile. Sempre nel centro pagina. Stop e ride su larga scala. Per ora l'annuncio di Putin ad Astana. Mentre la guerra si allarga. Colpita anche la Bergord in Russia. Poi ancora verso la manifestazione del 5 novembre. È tempo di far vincere la pace. Nel taglio basso poi Gran Bretagna. Governo in crisi. Si dimette il ministro delle finanze. È il terzo in pochi mesi. Poi Palestina. La destra israeliana. Proiettili contro i sassi. Dal manifesto diamo uno sguardo anche al quotidiano economico del sole 24 ore. Nel taglio alto sempre un riferimento all'elezione alla Camera di Fontana. Poi lavoro. 26,5% di assunzioni meno. Ma per il 45,5% non c'è il candidato. Indagine Excelsior. Calo più accentuato per l'industria nel trimestre ottobre-dicembre. Giù anche i contratti a tempo determinato. Nel nord-ovest la flessione maggiore. Poi infrastrutture. PNRR in arrivo a 100 gare entro fine anno con 8,8 miliardi del decreto per gli extracosti. Poi Di Stefano. Industria e lavoro al centro avanti con le riforme. Poi nel taglio laterale. Le sanzioni danneggiano più noi che la Russia. Queste le parole del Premier belga. Diamo uno sguardo anche alla prima pagina del quotidiano sportivo della Gazzetta dello Sport. Nel centro pagina l'Inter. Lautaro fa gola. Assalto del PSG e dello United. Ma lui dice no. La super partita di Barcellona lo ha rimesso al centro del mercato. Lo chiama anche Messi. L'argentino però respinge tutti. Vuole restare all'Inter. Poi nel taglio alto. L'incontro di questa sera alle 18. Torino-Juventus. Brivido derby. Gli allenatori. La carica di Juric. Adesso vinciamo. I rischi di Allegri. Il corpo a corpo. Lukic. Rabiot in mezzo al ring. Occhio a Vlasic. Bremer. Poi nel taglio laterale. Mese verità per il Milan e Napoli. Pioli retrasferta. Spalletti. Mago della tattica. Nel taglio laterale anche un riferimento al ciclismo. Top Ganna. Un incredibile euro mondiale sotto i 4 minuti. A oltre 60 orari. Prima di salutarci diamo uno sguardo anche al nostro palinsesto. Alle ore 11. Conto alla rovescia. Alle ore 13. Camminando Molise. Alle ore 13. 10.50 Musa TV. Alle 14. La nostra informazione in diretta con il telegiornale. Alle 15. La diretta di Campobasso 19.19 Isernia. Alle 17. Conto alla rovescia. Alle 19.30 la seconda edizione del nostro telegiornale. Alle 21. La replica della partita delle 15. Alle 22.30 Italia Economia. Alle 23. L'ultima edizione del nostro telegiornale. E non mi resta che salutarvi. A tutti voi auguro un buon proseguimento di giornata. ガplan. La vostra 13.30 thatís in fronte la sud sera. D violating la miteinander. Alla 42.30rag. Alla 24.30 survive. Grazie a tutti.